Inaugurato il centro riabilitativo regionale siciliano operativo al secondo piano dell'ospedale Guzzardi di Vittoria. Obiettivo coprire vasta parte del territorio e aiutare sia nella prescrizione che nell'assistenza domiciliare i pazienti stomizzati, evitando loro lungaggini burocratiche o viaggi fuori provincia. Questa nuova realtà ambulatoriale è nata dalla volontà del direttore dell'unità operativa di chirurgia generale di Vittoria, Maurizio Carnazza, di fornire un nuovo servizio fino a oggi mancante in provincia. L'ambulatorio ISTOM in Sicilia è il primo in provincia di Ragusa, nel senso che dopo vari anni è stato ripristinato e grazie anche alla sensibilità della direzione abbiamo creato assieme all'ISTOM questo ambulatorio che è dedicato a pazienti abbastanza particolari, abbastanza delicati, che hanno un'astomia, cioè una particolare situazione per cui necessitano di assistenza specifica. La struttura in questo momento è nello stesso piano del reparto di chirurgia generale all'ospedale di Vittoria, ovviamente, e consta di un responsabile, un entelostomista, cioè un'infermiera specializzata in questo tipo di trattamento, dell'estomie, ed è aperto per intanto una volta a settimana, ma pensiamo di iniziare quasi dall'autunno ad essere funzionante due volte a settimana. Lo scopo di questo ambulatorio è una struttura prettamente legata all'Unità Operativa di Chirurgia Generale, ma assieme all'ISTOM, che è un'associazione di volontariato che si è prestata e anzi è stata di grande aiuto nella costituzione di questo ambulatorio, offriamo appunto tutti gli ausili a questi pazienti che per varie vicissitudini hanno un'astomia, cioè un approccio esterno del loro addome, per cui hanno delle situazioni particolari, e diamo un'assistenza oltre che tecnica, pratica, anche un'assistenza di tipo psicologico per aiutarli a superare certi impasse legati alla loro patologia.